Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. In questo video tutorial vorrei offrirvi una guida, un'applicazione abbastanza semplice ma molto interessante, che ha tante possibilità di applicazione in ambito educativo. Si chiama Cube Creator, anche in questo caso mi è stata segnalata e consigliata da Astrid Ulschabosch. Si tratta di un'applicazione che viene fornita gratuitamente da una piattaforma che si chiama Read, Write, Think, Leggere, Scrivere e Pensare. È una piattaforma che offre risorse, centinaia di risorse, in forma di strumenti di documentazione, di appunti e di applicazioni, ai docenti e agli studenti per il potenziamento, per lo sviluppo e il potenziamento delle capacità legate alla comunicazione, alla lettura e alla scrittura di vari generi di contenuti, scrittura argomentativa, scrittura poetica, scrittura creativa e così via. è focalizzata sul pensiero critico. Ho già spiegato come funziona questa piattaforma in una precedente guida, il video tutorial, e troverete il link qui in alto a destra in una scheda. Bene, vediamo Cube Creator. Cube Creator è una delle tante applicazioni, dicevo, che vengono offerte. ha quattro funzionalità, in realtà, che vedete illustrate in questa immagine. Possiamo, cioè, costruire una biografia, o costruire la nostra autobiografia, attraverso uno schema che ci viene proposto da Cube Creator. Praticamente inseriremo otto tipi diversi di serie di informazioni relativi alla biografia di un personaggio, una nostra autobiografia. Il Mystery Cube, invece, è uno strumento che ci permette o di chiarire quelli che sono gli indizi utili alla soluzione di un mistero, di un libro che stiamo scrivendo, o di un film che stiamo guardando, o di una serie, o di un mistero di un giallo, inserendo anche qui otto, perché abbiamo a che fare con un tubo, quindi ci sono otto facce, otto tipi diversi di informazioni o di serie di informazioni. Poi abbiamo lo Story Cube, lo Story Cube, invece, serve per analizzare o creare una storia, una narrazione di qualsiasi voglia tipo, quindi una sorta di predisposizione di un canovaccio, secondo una procedura guidata. Infine, il più interessante, crea il tuo cubo, il tuo proprio cubo, il cubo che vuoi. In questo caso abbiamo la possibilità di adattare il particolare formato, la particolare procedura guidata, secondo cui è stato ideato Cube Creator, a qualsiasi tema o problema di carattere disciplinare o interdisciplinare che stiamo affrontando. Se per esempio in storia sto spiegando la rivoluzione francese, io come insegnante posso definire individuali, scrivere le otto tipologie di informazioni, in forma magari di domande, che gli studenti dovranno inserire in ogni faccia del cubo, posso bloccare queste domande, salvare il file, condividerlo con gli studenti, in modo che gli studenti poi riempiano ciascuna faccia del cubo, seguendo l'indicazione che io ho dato. Bene, si tratta quindi di che cosa? Di uno strumento molto duttile, che si può facilmente adattare a diversi scenari, a diverse situazioni di insegnamento, di apprendimento, e che, diciamo così, serve nella analisi e creazione di contenuti, o per meglio dire in quella fase preparatoria della scrittura, o di analisi di un testo che si è letto. Andiamo a vedere adesso come funziona, cube creator, clicchiamo su get started, ho già spiegato come si arriva sul sito, non c'è bisogno di registrazione, inseriamo un nome, qui scriviamo prova, e qui sceglierò, per esempio, voglio scrivere una biografia, ho la mia autobiografia, ho letto la biografia di un personaggio, la storia di un personaggio, e voglio individuare i tratti salienti della sua personalità. Mi si dà la possibilità anche di cliccare su questo pulsante, in modo da visualizzare un modulo che mi prepara alla composizione del cubo, alla scrittura del cubo, vedete, è un semplice modulo, abbiamo sei temi, sei topics, sei argomenti, e per ogni argomento io posso cominciare a inserire le informazioni. Ma torniamo al nostro cubo, chiedo scusa, e clicchiamo per vedere come funziona. Vedete, la grafica è molto carina, io prima ho detto otto facce, ovviamente un cubo ne ha sei di facce, chiedo scusa. Bene, prima di tutto il nome del personaggio in questa prima casella, su chi sta scrivendo la biografia, il periodo in cui, quindi mettiamo il nostro pippo, il periodo in cui il pippo è vissuto, in questo caso il pippo è un tempo indefinito, e il luogo, troppo linea, e andiamo avanti. Quindi, come si vede, è molto semplice la composizione, quindi si chiede di descrivere la sua personalità attraverso l'indicazione di alcuni eventi importanti della vita di Pippo, evento 1, evento 2, evento 3, e così via. Vado avanti. Le caratteristiche di Pippo, della sua personalità, è timido, ingenuo, è simpatico, e così via. Andiamo sempre avanti. Che cosa è per lui importante, che cosa è per lui significativo, perché è lui importante, per esempio, per me. E qui scriverò la mia risposta. Andiamo avanti. Quinta faccia del cubo. Quali sono gli ostacoli, quali sono le sfide che Pippo si trova a dover affrontare. E qui scriverò i vari ostacoli, eccetera, eccetera. E l'ultima faccia, mi si chiede di riportare alcune frasi, di citare alcune frasi pronunciate dal personaggio. E qui quindi inserirò le mie citazioni. A questo punto ho terminato, posso rivedere quello che ho scritto e modificarlo, oppure posso procedere e concludere. Andiamo alla fine, come si vede, mi si dà la possibilità, in questo caso, di stampare. Come si vede, è un foglio in formato A4, mi si danno anche le istruzioni, devo ritagliare seguendo le linee continue e piegare seguendo la linea tratteggiata. Ma mi si dà anche la possibilità, dicevo, mi si dà anche la possibilità o di salvare il risultato finale in formato PDF dando un nome, posso anche, vedete, cliccando qui, condividere il mio file, spedendolo tramite email. Ma in questo caso è interessante, mi si dà anche la possibilità di salvare il disegno o nel mio computer o in uno spazio online per poterci lavorare in seguito, perché non ho ancora concluso. E questa è un'opzione abbastanza interessante. Una volta stampato il risultato finale, avrò un cubo, immaginiamo di avere diversi personaggi, ciascuno studente ha realizzato il cubo relativo a un personaggio, e potremmo manipolare tanti cubi, diciamo, è molto carino come idea. Vediamo adesso velocemente le altre possibilità. Clicchiamo su Start Over, ok, e abbiamo il Mystery Cube che possiamo utilizzare o dopo aver letto un racconto del mistero, o basato su degli enigmi, oppure un giallo, per esempio. Oppure se vogliamo scrivere un racconto del mistero, o una storia, o comunque una narrazione del mistero, o un giallo. Bene, lasciamo sempre Pippo. Anche in questo caso abbiamo un modulo che ci permette di, prima della composizione del cubo, definire le caratteristiche e le informazioni che vogliamo inserire nel cubo. Come si vede abbiamo set tipologie di informazione, e adesso qui andrò più velocemente perché il sistema è uguale, qui indicherò il setting, quindi dove avviene la storia, dove si sviluppa questo mistero, il setting appunto. Qui abbiamo invece l'indicazione del personaggio che svolge il ruolo di detective, che risolverà il mistero. Poi si tratta di definire in che cosa consiste questo mistero, o questo crimine. La vittima, chi viene colpito dal crimine, o comunque chi è vittima di questo mistero. E nella quinta faccia, gli indizi che guideranno il nostro detective nella soluzione del mistero. E infine la soluzione. Qual è la soluzione che prevediamo? Io adesso torno indietro e vi illustro l'ultimo. Questo è molto carino perché può essere una sorta di canovaccio o per un lavoro di creazione narrativa, per esempio di digital storytelling o di storytelling senza il digital, che stiamo predisponendo con gli studenti che possiamo dividere in gruppi o far lavorare individualmente. Qui dovevamo inserire i personaggi, chi sono i personaggi principali della nostra storia. Qui inseriremo la scenografia, il luogo in cui si svolge la storia, il luogo e il tempo. Qui il conflitto, o i conflitti, o le sfide, o gli ostacoli, o i dilemmi, insomma, che costituiscono la molla dinamica che fa procedere la storia. Qui la soluzione, cioè in che modo viene risolto il problema affrontato alla sfida, eccetera. Qui invece è l'argomento, e cioè qual è il soggetto della nostra storia, qual è l'argomento principale che vogliamo trattare, gelosia, amore, una narrazione di formazione, e così via, fantasy, horror, horror. E infine possiamo indicare quale parte della storia è quella che ci è piaciuta di più. Bene, andiamo adesso a quello che forse è il più interessante, perché è un cubo, le cui facce sono bianche. E bianca anche quella parte che prima era invece occupata dall'indicazione dell'argomento, da una domanda, che ci guidava nella composizione del nostro cubo. Supponendo appunto che si sta sviluppando un argomento disciplinare o interdisciplinare, qui io, come docente, inserirò per esempio una domanda, non so, sulla rivoluzione francese, o su Kant, o sull'argomento che stiamo trattando, inserirò la domanda 1, e poi, come vedete, ho la possibilità di bloccare, in modo che quando gli studenti andranno a rispondere a questa domanda, per sbaglio o per scherzo, non mi cambino la domanda. E qui gli studenti inseriranno la risposta alla prima domanda, e così via. Oh, chiedo scusa. E così via. Qui inserirò un'altra domanda sulla rivoluzione francese, o una indicazione di scrittura, e la bloccherò finché non avrò concluso il mio cubo. Quando avrò concluso, avrò la possibilità di salvare, in modo che poi gli studenti possano online, concludere la compilazione di questo cubo che è creato ad hoc, in funzione dell'attività che stiamo svolgendo, dell'esigenza del momento. E mi sembra anche questo molto carino, sia per gli studenti più piccoli, ma forse anche per gli studenti che sono più grandi. Bene, io ho concluso. Si tratta di fare un po' di pratica, ma dal punto di vista tecnico è molto semplice l'utilizzo di questo cubo. Siamo arrivati a 13 minuti di video tutorial. Vi ringrazio per la pazienza e vi auguro una buona giornata.